Buongiorno a tutti i nostri amici, parliamo di essenziali con me e il dottore Luigi Mineo. Abbiamo accennato il primo sull'orecchio e le persone a volte fanno riempie e chiedono l'attrazione sui giornali di attrazione. Questo è il primo sull'orecchio per farci capire che questo sia importante un sorriso, soprattutto il sorriso. La qualità del riso di ogni persona va cristianata. La qualità del riso di ogni persona va a farci capire che il riso di ogni persona va a farci capire che il riso di ogni persona va a farci capire. La qualità del riso di ogni persona va a farci capire che il riso di ogni persona va a farci capire che il riso di ogni persona va a farci capire. Il riso di ogni persona va a farci capire che il riso di ogni persona va a farci capire. ma suona falso non funziona perché non funziona perché riserviamo crisi più massili crisi più femminili quindi bisogna ovviamente per impazzire i mezzi a disposizione che sono professionisti oggi venire da i mezzi sceptici appena di parenti che possono essere lavorate sottile ripristino la sostituzione la sostituzione la sostituzione una sostituzione e insieme si sceglie una sostituzione migliore però il tutto è da tutto sommato e da tutto sommato da anche quelli che sono i desideri che è un problema nella chirurgia plastica ha le persone che riprendono le veste di la possibilità di aglutare responsabiliamente la persona che si sceglie la persona armonica e direi che nel caso di sorriso la persona è facciamo come parte diciamo dai denti a riferimenti a fare i suoi elementi quindi a un orgo di funzione importante che possiamo disegnare se piuttosto che i metodi sono sbianchi non di i suoi i suoi di caccia e bianco i denti e qui non ha esistito Sbiancamento Ancora, facilmente possiamo ricostruire un materiale estetico Per fare delle sotturazioni Per fare delle ricostruzioni estetiche Per fare degli accessi, del navaleico È un livello molto elevato E praticamente vediamo i giorni Da unizione al cinema Certo Tanti soli servizi Parliamo poi alla fine, ci vediamo perché adesso vado ad entrare alla vita per i fili e adesso invece mettiamo le metodiche, dottoressa, ci vediamo come potete vedere un bel sorriso. Il bel sorriso è bianco, è bianco, è chiaro, per cui è la metodica la più sbagliata, è lo sbagliato. Tutti parliamo di questo, tutti sapete che la applicazione di questo noab è l'ossigeno, l'azione sbagliata sul nostro smalto. Il mercante dura per un certo sbagliato, non dipende dal tuo sbagliato. Parliamo qualche modo, e poi abbiamo un'esistenza di azione. Abbiamo un bianco, un bianco, un ciliano, i nostri colti vengono da un'esistenza di un paolo maschina, e il paziente questa mattina e ottiene settimane sorridere molto molto ma anche diciamo il ruolo il discorso è facile per il gesto con trucco e quanta dura? diciamo il biancato è un po' più ridotto due mesi e diciamo uno del 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 region per cui la cosa è diciamo proprio il di 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 e quindi viene attivamente un piano per cui si può parlare ovviamente un anno un anno un anno la durata allora diciamo l'ultima alzando la stessa nuovo intanto per la replicazione della durata retta per fare vicino a te prima perché va isolata la gengida le fa una bianca cioè le fa non sono sufficiente non deve danneggiata diciamo danneggiata ecco quindi anche per farlo non 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 con no non 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 grazie a tutti